Grazie Ringrazio per la presenza a questa cerimonia Un caldo benvenuto anche ai sei cittadini premiati o loro familiari Questa numerosa presenza, i discorsi e le premiazioni Costituzione alla città delle persone premiate Ma non tutte, perché un premio è dato alla memoria Una visibilità interrotta e poi tuttavia pervenuta nessuna segnalazione Per il conferimento del premio al valore Romano Sacchi Come pure non sono più presenze Si prodica da anni nell'assoluto silenzio Adoperandosi nel risolvere i piccoli e grandi problemi quotidiani Ha seguito con l'assiduità e preso a cuore Prima del prematuro Mantenendo contatti amichevoli con la famiglia E collaborando con l'associazione di Ebra Italia Grazie Da anni attivo dell'emergenza nei loro paesi L'ospitalità offerta dal Comune di Lodi Dalla Caritas Lodigiana E dall'associazione con costante presenza Spiccata capacità organizzativa Piena disponibilità Grazie a tutti Soprattutto al mondo dell'infanzia vicina e lontana Che ai disabili Compassione ed entusiasmo da anni Si dedica alla realizzazione e all'invanzia L'attenzione degli impianti Ha sempre dimostrato la grande capacità Di entrare in giocosa sintonia con i bambini Grazie a tutti La scuola nella comunità ecclesiale È stata una presenza luminosa Accogliente e disponibile Docente di matematica Presso l'ITI svolta di Eria Ma anche educatrice attenta e sensibile Alla formazione completa dei giovani Prezioso punto di riferimento Grazie a tutti Grazie a tutti Motivazione Motivazione Del resto del suo tempo a favore degli anziani Accompagnandoli con la propria auto A esami Visite mediche in ospedale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Nel corso degli anni Ha dato tempo ed energia Di impaterza età I lavoratori credenti Nel 2001 Ha ricevuto l'incarico Di aprire e organizzare La casa dell'accoglienza femminile San Giacomo Che ha diretto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti